Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parleremo del pony falabella, il pony più piccolo del mondo. Questo pony ha origini argentine ed essendo il pony più piccolo del mondo ha ossa molto sottili e zoccoli molto piccoli però abbastanza robusti da dare al pony una spinta per andare al galoppo molto veloce. Infatti questi pony qui vengono usati magari da bambini più piccolini che però sono già abbastanza di livello avanzato per l'equitazione e però non possono andare su un cavallo molto alto li fanno andare su questi pony appositamente perché vanno abbastanza veloce e gli permettono di andare al galoppo comunque. Adesso parliamo della mole che sarebbe il peso e l'altezza. Allora l'altezza può arrivare fino a 100 cm e il minimo è 60 cm quindi dai 60 ai 100 cm e pesa 100 kg quindi sembra un pony piccolo che si può sollevare facilmente. Ok questa cosa può accadere quando è piccolino quando ancora cuccia ma quando poi cresce è un po' difficile sollevarlo perché pesa molto per le sue dimensioni. Ha un carattere facilmente addestrabile ed ocile e quindi si vede molto spesso nei centri di equitazione perché è molto facile addestrarlo. È un pony che risale al 1840 o 1845 ed è stato inventato da Patrick Newell che emigrato in Argentina dall'Irlanda un giorno notò alcuni cavalli particolari che passeggiavano su un fiume che si abbeveravano e da lì ne fece accoppiare due da cui nacque il pony falabella o pony argentino. Purtroppo veniva utilizzato negli spettacoli che venivano fatti nei circhi però dopo è stato smesso di esistere questa tradizione di usare il pony falabella ed è diventato un animale libero un pony che adesso possiamo vedere nelle fattorie, nei centri di equitazione e si può tenere anche come animale da compagnia nel senso che tu hai una casa grande, un giardino perché ne ciascita di molto spazio. Puoi tenerne uno però devi tenere conto del dentista perché ai cavalli tende molto a rovinarsi i denti, a ingiallirsi quindi il dentista è molto importante come il veterinario. Si può confondere ogni tanto con il pony Shetland però il pony Shetland innanzitutto come detto in due video fa può tenere i bambini più pesanti e due è più grande del pony falabella. Alcune persone dicono che non è considerato un pony perché a differenza del pony ha sembianze, ha movimenti più da cavallo però come corporatura è più da pony. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale, commentate e consigliatemi altri video. Ciao!